In questa puntata, sicurezza sul lavoro, unanimità del consiglio sui controlli. Premiate i giovani cuochi toscani per la vittoria ai campionati italiani. Masterchef, Coppa del Consiglio a Eleonora Riso. Masterchef, Coppa del Consiglio a Eleonora Riso. In merito agli accertamenti sulle cause, questi sono in corso. All'unanimità è stato votato un atto unitario in merito ai controlli sulla sicurezza sul lavoro nella nostra regione. Noi indichiamo alcuni aspetti che sono contenuti anche in quelli che il nostro segretario Fossi ha chiamato la carta di Firenze. Vale a dire ridurre i subappalti, soprattutto o almeno in alcuni settori che sono più esposti, come quello dell'edilizia e della filiera agricola. Aumentare i controlli e per questo occorrono più ispettori. Occorre maggiore personale sia per l'ispettorato del lavoro che amministriale, sia per quanto riguarda anche le persone dedicate da parte delle aziende sanitarie. Occorre una formazione per la cultura della sicurezza e della legalità e questo deve essere fatto a tutti i livelli ad iniziare delle scuole. E poi una formazione che almeno in alcuni settori, penso a quello dell'edilizia per esempio, si faccia nel cantiere e si faccia con la presenza di tutte le figure professionali che sono coinvolte. Ecco, queste sono alcune idee che noi indichiamo e su questo chiediamo l'impegno della Giunta e del Presidente di rapportarsi anche con il Governo perché si vada in questa direzione, perché questo è veramente uno sforzo di civiltà. Pensiamo che debba essere fatto ancora molto a tutti i livelli. La Regione Toscana ha sicuramente a cuore la sicurezza dei lavoratori e da quanto si evince la comunicazione dell'assessore Cioffo sicuramente non è un tema che passa in secondo piano all'attenzione di chi governa oggi la Regione. Stesso discorso vale per il Governo nazionale. Il Governo nazionale ha messo in piedi un aumento, ha assunto 800 nuovi ispettori per controllare e vigilare sui cantieri, sugli appalti, ha messo in programma un aumento del 40% dei controlli e aggiungo io tanti di questi controlli dovranno essere fatti anche sulla tipologia di contratti, non soltanto sui dispositivi di sicurezza usati o su come i cantieri lavorano, perché purtroppo anche il tema dei contratti è un tema che ricorre sempre più spesso, spesso e volentieri al lavoratore non si fa il contratto più consono e più congruo alle proprie mansioni, ma quello più congruo e più consono alla sua retribuzione e questo è quanto di più sbagliato possa accadere. Io mi auguro che non ci siano divisioni politiche e che la si finisca di strumentalizzare chi perde la vita, chi esce da casa per andare a lavorare e non far ritorno alla propria famiglia, che è quanto di più brutto ci possa essere, per fare battaglia politica. Ho apprezzato, e l'ho detto anche oggi in aula, l'atteggiamento per esempio della segretaria del Partito Democratico, che all'indomani di quanto è accaduto a Firenze, nonziché rifugire come hanno fatto certi sindacati in facili polemiche, ha teso la mano alla Presidente del Consiglio Meloni dicendo che su questo si lavora insieme e auspico che anche il Consiglio regionale della Toscana possa fare altrettanto. L'assessore si è sforzato di porci davanti un piano il più possibile rassicurante per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma l'effetto è stato esattamente il contrario. Sapere che il personale che è a disposizione per questa importantissima e delicatissima funzione ai minimi termini e che il fatto delle banche dati che tra di loro non riescono a comunicare permetta anche pochi controlli documentali è allarmante. I cantieri in Toscana sono moltissimi, disparati, all'interno dei quali lavorano molte professionalità e l'unica proposta che secondo noi seria è arrivata dalla Regione è quella di introdurre la possibilità di accedere a cantieri per tramite dello strisciare il proprio tesserino sanitario in modo da poter identificare tutte le presenze dentro un cantiere e sapere se queste sono preparate anche alla sicurezza. Ma non è sufficiente. Sono state fatte delle campagne informative ma sono ancora troppo poche. Il settore dell'agricoltura continua a essere tra i più colpiti e sappiamo che quello dell'agricoltura è uno dei settori che occupa la maggior parte di manovalanze straniere e quindi hanno bisogno di una particolare attenzione proprio per la fragilità della situazione in cui spesso i lavoratori si vengono a trovare. È sottodimensionata l'infortunistica all'interno del sistema ferroviario. Abbiamo il sistema del massimo ribasso che fa sì che la tutela del lavoro e dei lavoratori passi in secondo piano rispetto a quelli che sono dei conti ragionieristici per cercare di trarre il massimo possibile di ricavo da un appalto. Tutto questo è inaccettabile. Il Governo nazionale non sta facendo nulla al riguardo. Ma l'attività che può essere fatta viene svolta. Quello che riteniamo essere opportuno e doveroso è che forse servono meno leggi ma serve maggiore verifica e puntualità e attuazioni delle stesse. Serve che le persone possano essere messe nelle condizioni di lavorare in maniera sicura e soprattutto che le nostre aziende sanitarie siano collaborative nei confronti degli imprenditori e nei confronti dei lavoratori. Serve magari maggiore comprensione, maggiore disponibilità, flessibilità ma anche normative più semplici. Questo è l'invito che fa Italia Viva per fare in modo che il lavoro possa essere svolto in sicurezza e che nel contempo le imprese possano lavorare ma nello stesso tempo le possano essere dei soggetti che lavorano al fianco delle imprese insieme ai lavoratori semplificando anche il quadro normativo. Molte volte ci si limita o ci si difende facendo una normativa ma poi molte volte si creano maggiori oneri magari burocratici, meno carte e maggiore tutela del lavoratore. Credo che il tema della sicurezza sul lavoro non debba mai essere un tema né che vada da una parte strumentalizzato né che vada da una parte affinché ci siano delle divisioni politiche. La Regione Toscana ha fatto e continua a fare delle azioni che siano appunto a tutela di tutti i lavoratori ma la strada è ancora lunga. Sicuramente la Regione Toscana ha dei punti a suo favore per quanto riguarda il numero dei controlli perché supera la media nazionale del 5% sul tema dei controlli però ha anche tante leggi che siedono lì e che sotto tanti punti di vista non hanno avuto ancora l'attuazione che meritano. Sicuramente tanto è stato fatto, tanto c'è ancora da fare. Quello che noi crediamo è che non ci debba essere divisioni di intenti, non ci debba essere strumentalizzazioni perché quando si parla di sicurezza sul lavoro l'articolo 1 della nostra Costituzione dice che l'Italia è fondata sul lavoro. Quindi quando c'è una morte sul lavoro o una mancata sicurezza sul lavoro è un fallimento di tutti indistintamente dall'appartenenza politica, indistintamente dal ruolo né dalla propria provenienza. Quindi da lì tutti insieme dobbiamo ripartire e ho chiesto all'Aula di votare velocemente e all'unanimità quella che è la nostra proposta di legge che abbiamo presentato quest'oggi con una conferenza stampa perché guardando al passato e guardando al futuro credo che sia un dovere sociale, un dovere morale e un dovere anche della Regione Toscana stare a fianco di tutti quei ragazzi, quelle ragazze, quei bambini, quei minorenni che hanno perso un genitore sul lavoro. Io però ho voluto far astrarre coloro che mi ascoltavano dalla loro opposizione di politici e di parlare da utenti. Perché vanno a comprare la maglietta made in Cina o made in India dove la sicurezza dei luoghi di lavoro non è rispettata? Cioè tutto quello che viene detto è tutto logico e giusto. Di fronte a delle tragedie come quella di Via Mariti oppure altre che ci sono state come la ragazza di Prato che fu schiacciata dal macchinario, per l'amor di Dio è bene che ci sia come è stato detto una formazione fin dai tempi della scuola per creare una cultura della sicurezza e una cultura poi da parte degli operatori, degli imprenditori sulla questione sicurezza dei luoghi di lavoro. In realtà però poi dobbiamo essere realisti e finiamo per doversi scontrare con una realtà che è ben diversa perché comunque l'economia è quella che è, l'angue e automaticamente tutti noi vanno a fare la spesa dove c'è le cose che costano meno sia in ambito di abbigliamento che in ambito di sostentamento di cibo. Per cui io vorrei che potessimo trovare una dialettica all'interno dell'assemblea legislativa che ci permetta di trovare un equilibrio, cioè perché è inutile essere più realisti del re quando poi non si riesce a condensare le questioni in cose concrete. Per cui benissimo fare della prevenzione e di fare sicurezza sui luoghi di lavoro ma bisogna essere quantomeno realisti. Hanno portato in alto il nome della Toscana valorizzando i prodotti tipici e la tradizione enogastronomica. Le ragazze e i ragazzi dello Junior Team hanno vinto il primo premio nella categoria Cucina Calda Squadre ai campionati italiani 2024 promossi dalla Federazione Italiana Cuochi e riconosciuti dal circuito World Chefs. Quest'anno per me è un riconoscimento ancora più sentito. Sapere che ragazze e ragazzi giovanissimi riescono a portare in alto il nome della Toscana, della cucina toscana, della filiera corta, della sua identità, mi dà il senso che il lavoro è quello giusto perché ogni qualvolta si riesce a far conoscere le qualità della nostra terra è bello e importante ma quando a farlo sono i giovani che davanti a loro hanno un futuro importante è ancora più bello. A voi i miei più sentiti complimenti, continuate a portare in alto il nome della Toscana, cercate sempre di stare sulla frontiera del cambiamento, mantenete insieme l'identità e le tradizioni ma anche la cucina più moderna. Siete un orgoglio per tutti noi e vi auguriamo tanta tanta fortuna professionale e nella vita. Allora, grandi risultati. Quest'anno dopo aver vinto il campionato italiano lo scorso anno con la squadra Grandi, quest'anno abbiamo vinto invece con la squadra Juniors, una scelta fatta con l'Istituto Alberghiero di Montecatini. Abbiamo preparato un gruppo di giovani ragazzi dell'Istituto Alberghiero e con il team dei campioni dello scorso anno abbiamo fatto delle preparazioni. Sempre cercando di valorizzare la gastronomia toscana, i prodotti e le eccellenze toscane abbiamo preparato i ragazzi spiegandogli le tecniche, le preparazioni, insegnandogli come funziona al concorso e siamo arrivati a Rimini e ci siamo fatti rispettare anche quest'anno, anche con i nostri giovani. Prima Toscana a vincere il titolo di Master Chef Italia. Eleonora Riso ha ricevuto una coppa a Palazzo del Pegaso. Alla Riso Livornese sono stati consegnati anche il cappello da chef e il grembiule di vetrina toscana. Sono davvero felice ed orgoglioso di poter ospitare in Consiglio regionale Eleonora. Eleonora è una forza della natura, ho avuto modo di poterci parlare qualche minuto prima di venire qui e tutto quello che abbiamo visto in queste settimane, in questi mesi, la capacità di saperci emozionare perché prima di tutto è stato questo. Pian piano ognuno di noi, tantissime toscane e toscani ti hanno seguito, hanno ti fatto per te. Ognuno di noi sperava tu potessi diventare la vincitrice di Master Chef 2023, giusto? 24. Diciamo Master Chef 13. Esatto, di Master Chef 13. Ed è davvero bello oggi poterti dare questo riconoscimento. Beh, è strano, è un effetto particolare, non credo che avrei mai potuto immaginare una cosa del genere che una cosa del genere potesse accadere nella mia vita. Non è, insomma, era un'esperienza ovviamente del tutto nuova e per di più un'esperienza ben poco semplice, perciò non è stato facile per me riuscire a stare al passo con le emozioni e allo stesso tempo riuscire a far parte di una competizione così tosta. Il più brutto quando ho perso in Valdichiana con la squadra in esterna in Valdichiana, tremendo, è stato orribile, ho pianto tantissimo, meno male non hanno inserito i miei pianti disperati in montaggio e il più bello quello in cui ho cucinato nella cucina dello Chef Uliassi a Senigallia. È stato molto molto bello, molto emozionante, ero veramente felice.